si è ricevuto dei problemi riguardo al microsoft store che si è bloccato su windows 10 o windows 11 quindi in questo caso possiamo risolvere tutto attraverso recit it quindi andiamo un attimo su recit it eseguiamo l'editor del registro di sistema come amministratore quindi tasto destra sopra esegui come amministratore entra così nella cartella hk local machine va in software scendi fino a giù fino a trovare così la cartella policies microsoft e dentro queste cartelle devi trovare la cartella microsoft store una volta fatto entra così nella cartella microsoft store e a destra sui parametri ci clicchi sopra e come dato di valore mette il numero 0 proprio lì dal posto di 1 mette il numero 0 e fai ok una volta fatto chiudi un attimo l'editor del registro di sistema e vai a scrivere direttamente e vai a scrivere direttamente w s reset esegui questo comando come amministratore ed ecco che il microsoft store è partito e funziona se non dovesse funzionare riavvia il sistema e riscrivi di nuovo quel comando quindi w s reset eseguilo come amministratore e apri microsoft store per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao